Però voglio vedere cosa c'è qui dentro Uh uh Royal Guard ragazzi GG ma attento con l'armatura è potentissima Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questa nuovissima puntata della Crazy Craft Sto leggendo subito dopo perchè l'euforia di uccidere quei nightmare è tanta In verità sono impaurito da quei cosi Non so nemmeno se riusciremo a ucciderli Però probabilmente sono anche risponati perchè è giorno Ok si 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 In teoria la cosa bella ragazzi è che risponano mentre è giorno No col cavolo Cioè si risponano di giorno però risponano comunque Ok ok aia No 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 Oddio ho i worms ok Sono poco pericolosi sinceramente Ok a posto Abbiamo sfruttato un piccolo Un piccolo coso per poter rientrare senza problemi Va bene mi piace mi piace qualcosa Allora dicevamo dobbiamo lasciare un po' di roba qui Che tipo non ci serve anche questi diamanti Oh dio questa roba la prendiamo tutta e la mettiamo dentro le ceste perchè mi dispiace Ragazzi ho un casino di livelli E questi livelli in più mi danno un sacco di aiuti Perchè perchè essenzialmente mi danno più vita Ora ero arrivato al massimo 70 livelli Quindi in teoria se ho un livello ancora di più Dovrei andare ancora avanti In pratica si è così Però non so se deve davvero funzionare in questo modo 86 livelli perfetto Allora Copriamo quest'expo Non so probabilmente l'expo ce l'ho presa però è scivugata E allora dovrei Dovrebbe essere scendere t-rex qui sotto Sembra che Allora di qui Perfetto Ok c'è la bedrock qui Allora voglio in qualche modo scendere Molto easy easy E vediamo un po' di scendere in questo modo Perfetto qua c'è la bedrock Quindi in teoria se facessi in questo modo Ok Ah per esempio quel t-rex è inciantato Non mi piace Anche perché è strapotente Porca di quella vacca Sua madre è una brava donna Ma no manco per il cavolo Ok Allora quel t-rex lo potrei uccidere Però ho paura che mi sciotti lui Quindi cosa vogliamo fare Vogliamo scendere? Sì vai Chiamocela Oddio è andato un po' più lontano quel t-rex Sapete? Ok oddio T-rex 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 Ok ho sciottato Ho sciottato quello inciantato ragazzi Perfetto No è quello lì dopo Quello più avanti Vieni da me Vieni da me stronzo Attaccami Attaccami stronzo Oddio quello inciantato ragazzi Devo ucciderlo Aia ecco infatti Sto nell'angolo Ok siamo nell'angolo Così non ci becca E dobbiamo ucciderlo Perché possiamo Ora ci farà saltare qualche volta Ma chi se ne fotte Sinceramente Ok dai che muori stronzo So che puoi pigliare botte 50 danno li faccio ragazzi solamente Oddio Aia Stronzo di Oh t-rex di merda T-rex di merda No no non si deve avvicinare ragazzi Si one shotta Perché ha un problema Buggato Si è buggato È buggato Oddio 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 Quando sponano così a muzzo Ok Un secondo che adesso Li facciamo sponare E poi ce la diamo Dai dai che ce la fai Dai sponate Stronzi Ora che non voglio Ora che voglio che sponate Non sponate Ma siete stronzi allora Ok Distrutti Perfetto E ce la facciamo Ok Un po' di esperienza sarebbe utile Oddio Aspetta Amico Tu sei un superstite È vero È rimasto lì ragazzi È l'unico superstite Che È sopravvissuto A questa lotta Così figa Ok Ho quasi cinque cuori Cinque cose di cuore Ragazzi Questa cosa mi piace tantissimo E ora I titan Quasi magari ci torniamo a prendere Ragazzi Non è un problema Ma lasciamo nelle ceste Ok Anzi Prendiamo tutto Lasciamo nelle ceste E vediamo solamente Cosa c'è qui dentro Ah Armatura nab C'è insomma Cosa è molto easy Ok Perfetto Si può scendere Ora Non ho altri lingotti C'è C'hanno altri lingotti Altri blocchi Quindi sono costato comunque Usare questa legna Che mi ero già portato Appresso Perché sapevo che Mi sarebbe stato utile Oddio Ah Ok ok Sembra essere un po' più figo Possiamo scendere In qualche modo Come diamine scendo Con i basilischi ragazzi Oddio No Non è un'ottima idea Perché In effetti Sono un po' chiuso Ci stiamo avvicinando Ok Allora Direi che avevo visto Che erano potenti Poi c'erano i basilischi Poi non mi ricordo Cos'altro avevo trovato Oddio 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 Basi dischi di merda Basi dischi di merda Basi dischi di merda Ok Aspettate che li uccidiamo Aspettate li uccidiamo Perfetto 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 Dovrei avere un po' di Dovrei un po' curarmi Ok Opla Venite qua Basi dischi di merda Porca Sono in coca Mi hanno messo Nell'angolo Sti stronzi C'è tipo Boh Lo slowness Assurdo Oddio Amici Amici pezzenti Guarda L'isciotto Su quello non c'ho dubbi Oddio Quanto slowness ho Mi guarda Eh sono 18 milioni Quindi giustamente Mi slownano a busto Oddio Ma porca Dai fatemi muovere Vedete qua stronzi Attaccatemi Ragazzi Sono troppi Sono troppi davvero Mi fanno slowness Di cattivare Mi ammazzano Cioè mi ammazzano Mi ammazzano Mi mettono nell'angolo E basta Aia Ho regeneration ancora Sì Penso di sì Ok Dovrei riuscire a saltare Tipo Aia 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 Stronzi 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 Andate a cagare L'ho buttato dall'altra parte L'ho buttato Sì nell'altro angolo Perfetto Ok Merda Oddio Devo mangiare un'altra mela Devo mangiare Ok Ok Fermi Fermi Ci calmiamo Ci calmiamo Oh Guarda quanta Quanta carne di merda C'ho Ok Aspetta un secondo Dove andare Ok perfetto Aia Aia No porca cacca Ho quasi riuscito a ucciderlo Guarda che c'era qualcuno bloccato Ancora lì Aia 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 Allora sei pezzente Sei eh Sei pezzente davvero Vieni qua Affrontami da uomo a basilisco Affrontami da uomo a basilisco Facendo un sacco di scale sto facendo Riuscirò a distruggere sto cosa Dai Pezzente Ecco il coso ragazzi È bugato Dove riuscire a salire Dove riuscire a salire Dove riuscire a salire Ah porca È bello che ti spingono E ti mettono nell'angolo più Più remoto della terra C'ho 100 livelli quasi Oddio No 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 Ok Vabbè Sì 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 Va bene Dai dai Va benissimo Dai ci potete Ok Aspettate un secondo che finisce un attimo il coso Ok ci sono Gli hercules che comunque In sostanza sono un po' più fighi Rispetto agli altri di sopra I bassi dischi sono quelli che ho di più ragazzi Sappiatelo Adesso è abbastanza easy da battersi C'è una taglia Fanno un po' malaccio però Che se ne fotte Per il resto sono abbastanza nabbi Ok Sono abbastanza semplici come te da battere Si può fare Si può fare E Cosa Diamo ne faccio di tutta sta roba merda Oh oh Mentre dentro la tender staff È fantastica ragazzi Quindi la prenderei una Oddio Quei rumori là sotto Non mi Mi spaventano parecchio ragazzi Ma parecchio davvero Quindi non voglio sapere Che diamine c'è lì sotto Perché potrebbe essere roba Strana Ok ora 100 livelli Dovrei livellare In teoria Talmente ci vorrà un pochetto Per livellare Uh cos'è sta roba Ah rubi c'è split Merda Merda brutta insomma Ok Piccone di Con inefficienza Unbreaking Smettetela di troppare roba Ragazzi Sono pieno di Di merda Di merda ovunque Ok butta butta sta roba Va No quasi mi servono Ok la tender staff pure Dai Oddio Ok Dovrebbe essere finita la roba Sì col cavolo C'è ancora roba che Vengo Viene buttata verso di me Dai Questa è la roba di sopra Ragazzi secondo me Sì è la roba di sopra Probabilmente Ok E questo è andato Andiamo verso il posto Successivo Che è quello più sotto Ora Quante mele c'ho qui dentro Non ho Ah un mela mela Una mela Ho sette lingotti Dovrei avere altri lingotti Qui dentro tipo Ok un'altra mela Potrei farmi due mele d'oro Sinceramente sarebbe Un'ottima idea Oh Eh beh Non ho proprio il massimo Una riesco a farla Facciamoci un'altra mela d'oro Perché comunque ne abbiamo dieci Averne una in più Praticamente non guasta Facciamo così Facciamoci un'altra mela d'oro Così Perfetto E mettiamoci sta roba Nel nostro inventario Non qui Nell'altra parte Utile Sti cosi qui sotto Sono abbastanza inquietante Quindi Che diamine E' quella roba Che sta facendo Clac 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 Bella domanda Non lo so La mia spada sta quasi finendo Mio dio Come ne riparo con la spada poi Eh non mi sa Non la riparo Cosa c'è qui sotto Scusatemi Ah cosa Aspetta Cosa diamine sono Ok Jumpy bug Ah vabbè Ah Mi immaginavo chissà quale cosa Sinceramente Sono abbastanza scarsi Sinceramente questi Si shottano Oh si shottano easy Si shottano La mente che arrivano tipo In massa verso di te E ti shot Cioè ti fanno un po' di male Però per il resto Sono abbastanza semplici Ora se trovi la cosa random Bella Ti trovi gente stupida Contro che come vedete Tipo almeno ti attaccano Tremoco E di shot easy Di shot Ahia Ahia Ti bug di merda Ok 5 cuori ragazzi Gigi Ahia Oddio però L'unico problema è che sono potenti E non si fanno Non pigliano danni Alcune volte Di beccarli in pieno Ok Ahia Ok Oh 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 Ahia Quasi saltano Gli stronzi Oh ametista Ahia un po' Questa roba che mi ha detto Questa roba che è forte Oddio Forte parliamone Non è che le va Qua tantissimo Ok Dovrò cercare di salire di sopra Oddio Oddio Ok Buoni male Stupido bug Oddio Oddio Le hammerhead Non li ho mai visti Quando sono sporati Di così ragazzi Non li ho mai visti C'è la vita mia E' la parte di sotto Questa Qui si dovrebbe trovare la roba Del prince ragazzi Ok Ahia Oddio Mi sciotta Mi fanno un male tremendo Ma l'ho levato tantissimo L'ho levato Guardate che abbiamo sta roba Ok Oh oh ahia Ostriche Ostriche Perché dovrei risponare Ostriche Oddio sono potenti Oddio Stupido cosa Ahia Oh no ragazzi Ragazzi fanno male Oddio Mi hanno buttato su Mi hanno buttato Che cosa Che diamine fate Scusami Non è che sono un giocattolo Che mi buttate da parte All'altra Oddio come ci arrivo Lì sopra Uccidere Eh sono belli potenti Ragazzi E pigliano pochi danni Pugliano 50 danni Pugliano Col massimo Dove mettere l'altro lato Dove mettere qui Mi fanno saltare Sti cosi Ci sono posioni Di expo Da cosa mi piace Ok E in teoria Adesso ragazzi Se uccido Sti cosi Poi posso andare A abbazzare Cioè dovrei Averlo spawn Del prince E il prince Ragazzi Bella merda Sarà una cosa Gigantesca Da uccidere Mi serviranno Un sacco di armi Potenti E dovremmo Affrontarlo Molto Piano Piano Magari Andiamo a uccidere Prima Godzilla Mozilla Quello che è Insomma Per Oddio Per comprare Un po' di roba Porca cacca Mi levo un casino Mi levo Ragazzi davvero Prego la slice Non riesco a ucciderli Quanti diavoli Siete tancosi Stronzi Oddio Ma dovreste Beccare tipo Danni a go go Invece no Nada Sono immortali Sono Magari ci mettiamo Tipo qui Nell'angolo Aia Ok No 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 Vediamo un po' Cosa c'è qui dentro Oh eccolo qua Spawn the prince Perfetto Mi serviranno un paio di spawner Questa roba Ah Oh Uh no Don't Ok Quale potrebbe essere Un'idea Ok Allora non dovrei Ucciderli tutti Perché comunque Mi è fottese Certo di sti cosi Però voglio vedere Cosa c'è qui dentro Uh uh Royal guard ragazzi GG Ma attento Quell'armatura è potentissima E se riesco a trovare Le altre due parti Sono a posto Sono felice Ora però Il problema è Passare dall'altra parte Porca cacca Oddio Sti cosi sono Penso i mob più difficili E più resistenti Cioè difficili non tanto Ma resistenti si Che abbiamo entrato Su questo gioco Comunque sulla Crazycraft Aia Non devono Veniremi vicino Uh Royal go Oddio Aia Ok mi attento Che Ah ok Quasi non mi attaccano Se non Sono incazzati Ok L'ho domanda Dall'altra parte Ragazzi Corriamo 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 Ah Se non li picchiano Loro si incazzano Perfetto Mi piace Questa roba Attitude jump Oh ragazzi Abbiamo un altro prince Perfetto Sembra Sembra che non si incazzano Se non l'attacco Perfetto GG mi piace questa cosa Ok 8 e 4 chest prese Ragazzi guardate la mia vita Che sta crescendo ancora E ok Bello Bello davvero Abbiamo un casino di roba Abbiamo Oh mio dio Che diamine è quella cosa Oh What the fuck Ragazzi Mi servono esperienze Mi servono Perché Prendiamo Pozioni di esperienza No ok Ho Pozioni di esperienza Go go La cosa mi piace Vai prendi Pozioni di esperienza Mi piacciono quelle Non so cosa sono i creeper launcher Però Ehi Sembrano belli Quindi perché no Ragazzi Noi ce ne andiamo Dio ce ne ho incazzato Mi sa in mezzo Allora noi ce ne andiamo Triportandoci qui Bam Ok Allora siamo felici Abbiamo affrontato Una delle battaglie più grandi Da nostra vita Ma siamo pronti Perché abbiamo Un'armatura della madonna Adesso Posso iniziare a mettere Questa roba a posto Abbiamo una royal guarda Adesso E quindi adesso Abbiamo la bellezza Di questa roba Che è un breaking 5 E l'altra anche Quindi Ehi uno e due Oh mio dio Oh mio dio ragazzi Oh mio dio Ora Non è che Sciottiamo la gente Ora Li trituriamo Come se non ci fossero domani Allora ragazzi Per questo dungeon è tutto Noi ci vediamo nel prossimo video Da Ulisse E da bellissimo gioco Che si chiama CrazyCraft OP E tutto Ciao ciao ragazzi Ciao ciaoさ